Moreno Roggi, agente FIFA, prima di tutto una domanda sulla partita di stasera tra Napoli e Juventus. Si riapre il campionato? Non è semplice, anche se questa mi sembra che sia la partita clou determinante per il Napoli per cercare di riagganciare il discorso scudetto, perché vincendo si porterebbe abbastanza a ridosso, anche se con un limite ancora abbastanza poco abbordabile per poter raggiungere ed equilibrare. Vedo il Napoli l'unica valida interlocutrice per la lotta allo scudetto, però la Juventus la vedo superiore. Doveva fare qualcosa in più il Napoli nelle ultime partite? Si è parlato molto anche di Mazzarri, del suo futuro. Quanto può aver condizionato tutto questo la squadra partenopea? Non credo che questo abbia condizionato il cammino del Napoli. Secondo me i pochi gol di Cavani hanno condizionato il cammino del Napoli, perché si è fermato a quattro gol. Un grande calciatore come lui, che con la sua continuità doveva aiutare il Napoli ad arrivare a questa partita con un margine di punti che potesse prevedere l'equilibrio con un'eventuale vittoria del Napoli. Quindi un riaggancio e viceversa la Juventus ci arriva anche grazie ai pochi gol di Cavani del Napoli, ci arriva con un margine di tutto rispetto. Domani invece la sfida tra Milan e Lazio. Alla lunga saranno queste due squadre a contendersi il terzo posto? Sicuramente sì, anche se vedo nettamente favorito il Milan. Probabilmente non ci sarà però Balotelli nel Milan, questo potrebbe essere un handicap pesante. È sicuramente un grande giocatore che sta dando una grossa mano al Milan, se non altro al di là del discorso dei gol, come entusiasmo. Sicuramente è una mancanza notevole, però comunque vedo nel complesso, al di là della gara specifica, superiore il Milan per arrivare al terzo posto. Milan sta progettando anche il suo futuro, un futuro costituito per lo più da giovani. Ambrosini continuerà a far parte del progetto Milan, che è un giocatore che ricordiamo ancora è un tuo assistito. Una domanda messa così potrebbe far presupporre che Ambrosini non rientra più, perché avendo 36 anni, 35 andando per i 36, è chiaro che impostando il Milan un programma sui giovani potrebbe anche non rientrare. Però Ambrosini negli ultimi 4 anni ha sempre fatto il contratto all'ultimo secondo, dimostrando sul campo di meritarselo. E anche quest'anno, mi sembra, al di là della data anagrafica, che non va a suo favore, secondo me il Milan rinnoverà ancora il contratto, perché per quello che sta dando dimostra di essere giovane nel fisico. Hai avuto anche dei segnali in questo senso a parte del Milan? No, sono mie supposizioni. Supposizioni, insomma, dettate anche dalla tua esperienza, da quello che è successo negli anni scorsi, da quello che ha dato questo giocatore al Milan? È il capitano del Milan, sta ancora bene fisicamente, quindi al di là dell'età anagrafica, c'è un'età biologica che, finché l'età biologica dimostra che ancora il fisico regge e sta bene, poi, perché no, può rinnovare ancora di un anno. Però, insomma, queste sono valutazioni che farà il Milan alla fine, perché chiaramente Ambrosini aspetta il Milan fino alla fine, come ha fatto da sempre, e soprattutto negli ultimi anni, quando ha rinnovato di anno in anno il suo contratto, fermo restando che potrebbe anche, in caso di diniego da parte del Milan, fare un'esperienza all'estero. Il Milan intanto ha blindato El Sharawi, contratto fino al 2018. Se qualcuno avesse voluto farsi avanti, insomma, il Milan ha voluto subito chiudere ogni eventualità. Beh, sì, è la dimostrazione che sta puntando su questi giovani che stanno diventando dei campioni, se già non lo sono, e quindi è normale che li blinda per quanti più anni è possibile, anche se si sa che poi la lunghezza del contratto non è data dalla carta, ma è data dalla fiducia che c'è fra le parti. Proviamo anche a scoprire il futuro di alcuni giocatori più importanti nel campionato italiano. Dove andrà a giocare, secondo te, il prossimo anno Jovetic? Jovetic deve far bene le sue valutazioni, perché la Fiorentina si sta dando un'inquadratura, è una struttura da grande società e potenzialmente da grande squadra. Quindi in giro, secondo me, non è ancora così pronto per una grandissima squadra, quindi gli potrebbe far comodo ancora giocare anche a lui nella Fiorentina. Cavani andrà all'estero? Cavani potrebbe essere il momento per cui un cambiamento potrebbe far bene a lui, e lui poteva fare bene anche al Napoli, avendo una clausola di recissoria abbastanza alta da poter permettere al Napoli, con i danari che è introita dalla sua cessione, di ricostruire la squadra.